Caserta Focus. Giornale online di Caserta e provincia diretto da Francesco Marino. Le notizie del giorno. Capodrise. Il sindaco negro chiede di essere ascoltato dal prefetto dopo l'ennesimo attacco ricevuto nella notte con altri colleghi della giunta. Caserta. Ragazzino rapina una coppia in pieno centro armato di coltello. È stato fermato dopo l'intervento della polizia. Tragedia a Mondragone. Una donna cade da un balcone sulla Domiziana. Muore dopo il trasporto alla clinica Pineta Grande per le ferite subite. La municipale indaga sulle cause del decesso. Santa Maria Capo a Vetere. Bloccato con la droga in via del lavoro, 24enne e finisce ai domiciliari. Nascondeva altro stupefacente nella cucina di casa. Mondragone. Fermato con 41 dosi di cocaina in via Duca degli Abruzzi, arrestato dai carabinieri. Juve Caserta. Parte ufficialmente domani la stagione dei bianconeri con il raduno al pala piccolo, visite mediche e primo allenamento. Approfondimenti su queste e altre notizie su Grazie a tutti. Grazie a tutti.